Ampia operazione delle forze dell'ordine tra Scampia e Caevano. I carabinieri hanno dapprima indagato per ricostruire la dinamica e la matrice di quanto avvenuto nel campo nomadi in strada provinciale Cinque Vie. I gnoti hanno infatti esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro alcuni moduli abitativi. I militari hanno riscontrato quattro fori di proiettili rilevati, non ci sono feriti con le indagini ancora in corso. Nella zona di Scampia invece dei Rom smaltivano e incendiavano dei rifiuti per conto di privati ma anche di aziende. In quattro sono stati arrestati dalla polizia di stato a Napoli. Tra il 2017 e il 2022 infatti sono stati registrati numerosi incendi dolosi di cumuli di rifiuti la cui quantità era certamente non riconducibile a quella normalmente prodotta dagli abitanti del campo. Attività illecite che venivano svolte nelle immediate vicinanze di due complessi scolastici e le investigazioni hanno permesso quindi di accertare anche alcuni furti di pezzi, di inferriate e pali in metallo ai danni delle rispettive infrastrutture. I quattro soggetti sono stati quindi rintracciati nello stesso campo Rom di via Cuppa Perillo e sono scattate le manette.